Ok, riprendiamo dove eravamo giunti Quasi la zona un po', no, dai Adesso andavo uscito fuori dalla trappola della scorsa live Facciamo ancora il coraggio, qui è molto peggio Vediamo un attimo la mappa La mappa dov'è? La attirazione apposta Insomma, leggermente differenti Allora, un po' più di energia Che cacchio è? Ma... Ho dei soldati folletto, non lo so Ho dei soldati, non lo so Grazie a tutti Grazie a tutti Abbastanza forti Stiamo andando fuori Traiettoria Vabbè dai E la... Grazie a tutti Grazie a tutti Wow La zona è abbastanza fastidiosa Grazie a tutti Far farla ardente That's wrong Grazie a tutti 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 Saliamo ancora di livello di forza Potenziamo Potenziamoci Grazie a tutti Wow 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 Sì 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 Adesso dove cavolo devo andare? Sì No Sì 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 Ma non lo vedo Sì Grazie. Grazie. Era un scrabbio. Grazie. Grazie. Slaughter. Slaughter. All hearing slaughtered. But alas... It was for naught. But all you... Is snatched... From the big pot. Pretty. Sì, la... Tu, tu... Mikayla può... ...e... ...slautare. Ma... ... Ok... ... 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 Esquivare voi cosa l'alesso. Ok, ok, ok. Grazie. C'è il delirio di gente qui. Quindi mi conviene affrontarli una alla volta a cominciare da quel carretto. Alla prossima. 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 Sì. Alla prossima. Alla prossima. 發. Ok. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. E' producesbente di pietra. ebbe averci la data quello per entrare ebbe averci la data andiamo un attimo da quello come si va? la chiave di scintipietra quindi siamo bloccati qua in attesa di trovare la chiave di scintipietra la chiave di scintipietra a dove cavolo si trova? va? la chiave di scintipietra Buongiorno. Manca la mappa della zona qui, purtroppo. E non so dove devo andare. Grazie a tutti. 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 Ok, quindi quelle blu non danno fastidio a nessuno. Grazie a tutti. Perchè? Grazie a tutti. Che cacchio? La cosa si muove o cosa? Grazie a tutti. Ma... Grazie a tutti. Grazie a tutti. E... 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 Ma... E... E... cacchio? Cacchio. Cacchio. più che altro avevo saltato io di ricaricare le batterie ok andiamo c'è una cavalcata avanti no che succede ma basta come è che non gli sete attaccare così alle spalle ahia ok ok Sì wow è gigante siamo come si passa oltre di qua di qua quello è un mercante? quanto pare si veramente mi sarei letteralmente perso però facciamo finta di niente non mi sembra sono E.G. un mercante che aveva sempre servito i carriani un vecchio che non si riuscita a riuscita quindi qui sto ancora di spettacolare a questo punto potremmo piacere un display Ok. These bones are old, but still able. Something else. Oh, watch out there. When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all. If you come too close, I am. I am, after all, terribly lucky. Don't know how hard it is not to break anything while I... Brave tarnished. A word of warning, if you please. This territory once belonged to the Carian royal family. Their manor lies not far beyond this point. When the Rea Lucari Academy turned on the Carians, the knights of the Cuckoo descended on this tract. After leveling it, they carried on to the manor. The Carians were taken off guard, but their strength had not waned and they repelled the knight's onslaught by conjuring an enchanted snare that remains potent to this day. That is why I say, tarnished. Don't unless you wish to lie with the corpses of the heedless knights. I've explained all the enchanted snare that remains whatever you do brave tarnished. Why is there? Why is there? The bauengrating, while washing stairs are here. So, that's not a point. ...and're... ...al manier... ...and're... 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 ...of the entrance. Oh, wow! ...vo... ...and're... 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 mappa oh ben interessante tipo questo non l'abbiamo ancora visto quindi vabbè vedremo ok dai alla prossima ragazzi ciao ciao ciao